Buongiorno, ben ritrovati, siamo al 28 di aprile mercoledì, due veloci flash sulle questioni di strettissima attualità anche per dimostrare che siamo on air e non siamo on demand, cioè registrati e poi messi lì sul sito delle fonti, ma in live streaming due flash, uno che riguarda la vicenda del calcio, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi a proposito del fatto che il progetto di Superlega, che i 12 club, tra cui 3 italiani, 3 spagnoli, 6 inglesi, il calcio dei ricchi, si volevano fare il torneo su misura, io vi ho raccontato e vi ho detto che in realtà si stava parlando di una guerra fra ricchi, non è che ci sono i buoni e cattivi, ci sono i ricchi indebitati, i ricchi che non sono indebitati, tipo il Bayern, squadra tedesca in testa alla classifica, la quale è una protagonista, la squadra del Bayern a livello internazionale, ma con i conti in ordine e in attivo, gli altri no, però non è che la UEFA e la FIFA siano due associazioni francescane, basterebbe solo capire su quali basi siano riusciti a dare i mondiali di calcio al Qatar, uno scatolone di sabbia con 50 gradi dove sono già morti 6500 operai per la costruzione degli stadi e dietro l'assegnazione al Qatar ci sarebbero interessi a dir poco torbidi, ma lasciamo parla, la cosa divertente è che nel momento della Superlega, quelli del Bayern e il suo amministratore Karl-Heinz Rummenigge che ha giocato per un'Italia ha detto basta, la colpa è nostra, abbiamo costruito un calcio in base al dio denaro, al dio mercato, abbiamo gonfiato gli ingaggi, le percentuali, le provisioni dei procuratori tipo Raiola, gli ingaggi di calciatori come Ronaldo che a 35 anni guadagnano 30 milioni di Euro, basta con questo calcio inchinato al totem del soldo. Ieri arriva la notizia che il Bayern, di cui Rummenigge è amministratore delegato, ha comprato l'allenatore della squadra seconda in classifica, il Lipsia, prima della fine del campionato, perché ancora non è finito, l'ha comprato, l'ha ingaggiato non sappiamo per quanto, pronto a sganciare 25 milioni di Euro di penale che l'allenatore dovrebbe versare all'Ipsia per andarsene anzitempo. Mi verrebbe da dire, pronto Rummenigge, ma questi 25 milioni pagati sull'unghia per pagare la penale e accaparrarsi l'allenatore della squadra seconda in classifica, a quale dio invece vanno imputati se non al dio mercato e al dio denaro? Non è che è possibile sempre che siano gli altri a sbagliare e noi siamo impeccabili. Non siamo impeccabili neanche nel fare nel nostro mestiere di imbrattacarte, perché qualcuno ricorderà la vicenda della caserma dei carabinieri Levante, in quel di Piacenza, primo e unico caso di caserma interamente sequestrata dalla magistratura per le indagini relative a quei 4-5 carabinieri che in realtà erano un'associazione a delinquere. Nel frattempo di questa vicenda sui giornali si è persa traccia, vi do una notizia, a Piacenza c'è in corso il processo con rito abbreviato, sono state chieste le pene per i carabinieri infedeli, la più grave delle quali è quella a 16 anni dell'appuntato, che peraltro è quello che poi ha collaborato con la magistratura per svelare le porcate che purtroppo questi carabinieri infedeli, quei carabinieri infedeli hanno messo in pratica nella caserma finita, caso più unico che raro, sotto sequestro dalla magistratura. Questo link al fatto che di questa notizia poi si è parlato per qualche giorno, poi è finita del dimenticatoio, mi consente di salutare l'ospite di oggi, il quale tra l'altro è nato all'Ipsia, a proposito di Bundesliga e di Bayern che compra l'allenatore dell'Ipsia in corsa, ed è un collega, un autore improprio, uno scrittore, il quale ha firmato un libro di grande successo per Inaudi che si intitola Veleno e che fa riferimento a un caso che in qualche modo è prodromico al caso di Bibiano, altra vicenda di cui si è parlato per tantissimo tempo fino a quando interessava la politica o ai politici. Dopodiché, finito l'interesse, le lezioni in Emilia Romagna e via elencando, di Bibiano non si è più saputo niente. Il caso precedente era quello dei Diavoli della Bassa Modenese, a cui è dedicato questo libro Veleno, di questo autore, il quale leggo sul suo profilo Wikipedia, quindi con tutte le cautele del caso, leggo che lui afferma di saper parlare le seguenti lingue, il persiano come lingua dei nonni materni, il tedesco come madrelingua, l'italiano imparato dal padre dopo il trasferimento in Italia, l'inglese imparato durante gli studi a Londra, lo swahili imparato durante gli studi universitari e soggiorno a Zanzibar, l'indie imparato durante gli studi viaggi in India, il volof appreso in Senegal, il francese imparato in Mali, lo spagnolo hai preso dei libri di Pablo Neruda, il portoghese, imparato in Brasile e infine il russo. Signore e signori, Pablo Trincia, buongiorno. Pugno? Buongiorno, buongiorno, buongiorno e saluto in quale lingua dei segni del mondo? Saluto Samurai. No, io aspetta, io ho anche le proprie. Ci siamo giocati Pablo Trincia, dove è andato? Io ho il nome di tutto, capito? Noi non ce l'avevamo preparati io e te. No, no, noi non ci prepariamo mai con nessuno. Ah, ecco, vedi? No, ma non dub... Pablo, non dubito. Pablo, non dubito. Non dubito, non dubito, non dubito. Mi faceva ridere, perché mentre lo dicevi, mi giro e c'è qua tutta la parte linguistica della mia libreria. Ma ti fa onore, sei davvero poliglotta. Trovo, purtroppo ho capito a 40 anni di aver sbagliato vita e questo è così. Insomma, è una cosa che... avrei dovuto fare altro, però sono finito a fare questo e va bene, va bene anche questo. Però avrei dovuto fare linguista o un insegnante. Beh, caspita, data questa tua versatilità nell'apprendimento di sì tante lingue completamente diverse, poi è comunque complicata, perché insomma il tedesco, il russo, passi per l'inglese, l'inglese, francese, lo spagnolo, ma insomma russo, tedesco, persiano, swahili... No, ma aspetta, 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 però... No, no, allora io tutto questo nasce da... Tu, io ti arrivo bene, Antonello? Ti arriva la connessione? Benissimo. No, io... questo nasce dal fatto che io qualche anno fa avevo fatto un video carino, così, su YouTube, in cui... perché tutti mi chiedevano ma quante lingue parli? Allora avevo fatto un video in cui facevo un po' sfoggio delle lingue che sapevo, ma specificavo anche, guardate, che alcune le so e di altre so dire qualche parola. Il russo ovviamente è una lingua che ho in casa, perché i miei genitori entrambi parlano russo molto bene, ma io non ho mai parlato in vita mia, io so dire dieci cose. Se, diciamo che ho la capacità di memorizzare in ogni posto le parole, diciamo, della lingua locale e poi di riutilizzarle e di, come dire, trarne vantaggio. Alcune lingue le ho studiate bene, lo swahili, l'indi, eccetera, l'inglese, il tedesco. Altre, diciamo, ho più una parlata da strada per chiedere magari quando va l'albergo e quanto costa questo e queste robe qua. Però sì, diciamo che è una delle grandi passioni, è la grande passione della mia vita in realtà. Oh, ma veniamo a Veleno, il libro che tu hai scritto sui cosiddetti diavoli della bassa modenese, vicenda che io ho definito prodromica, o magari no, magari era contestuale, alla vicenda di Bibiano. Ora, di Bibiano, ripeto, abbiamo sentito parlare fino allo sfinimento, fino a quando alla politica e ai politici è interessato, la storia di questi bambini strappati alle famiglie perché intervenivano degli psicologi in combutta, non si capisce bene con organi giurisdizionali e arrivavano a sottrarre i bambini. Lo dico in maniera basica, ovviamente poi la vicenda è articolata, complessa, ci sono tanti addentellati. Però intanto, Pablo, da dove è nato il tuo interesse per la storia dei diavoli della bassa modenese? Ma è stata una cosa assolutamente casuale. Io volevo fare un podcast perché negli Stati Uniti era appena esploso nel 2014 il fenomeno delle audioserie, che adesso è una cosa di cui tutti parlano a distanza di 5-6 anni, sono tutti lì che vogliono fare podcast, ne escono un sacco, nascono delle podcast company, io adesso ho lasciato la tv e lavoro per una podcast company che è Cora e io cercavo una serie da fare, volevo fare una serie di puntate, volevo approfondire, per una volta il nostro lavoro ci impedisce spesso di approfondire, ci impone sempre dei ritmi troppo così isterici e io volevo prendermi un po' di tempo per trovare una storia su cui ragionare. E quindi, assieme a un amico, Luca Micheli, abbiamo trovato questa storia, ci siamo imbattuti in questa storia perché era appena stata assolta una madre, Lorena Covezzi, dall'accusa di aver abusato dei propri quattro figli che le erano stati sottratti nel 1998, quindi 16 anni prima. Era una notizia che era appena uscita, io avevo contattato questa donna e questa donna mi aveva detto guarda che però non c'ero solo io di mezzo, qui ci sono 16 bambini che sono stati tolti alle famiglie tra il 97 e il 98 in due paesini vicini dell'Emilia Romagna, che sono Mirandola e Massa Finalese e che non sono mai tornati a casa. Io non avevo ovviamente mai sentito parlare di questa storia perché è una storia che è sempre rimasta molto sotto traccia, se ne era parlato un pochettino all'epoca, era finita magari su qualche telegiornale, era finita anche al Tg1 questa notizia così, però era una roba su cui nessuno aveva mai approfondito, forse anche per una questione di ma tu questo lo sai di me perché hai fatto molto più informazione di me, c'entra anche una distanza, la posizione geografica in cui questa vicenda è avvenuta, in mezzo ai campi della bassa padana, quindi in una zona lontana dai network televisivi. Un caso simile per certi aspetti è il caso di Rignano Flaminio, dove però, a parte che era più vicino a Roma, quindi anche geograficamente era più vantaggioso anche per un emittente occuparsene, ma poi c'era coinvolto anche un autore della RAI e quindi questo ovviamente rendeva tutto un po' più notiziabile, no? Però questa storia qui non se la ricordava nessuno e quindi ho iniziato a indagare e ho visto che c'erano stati questi bambini che erano stati allontanati dalle famiglie e che successivamente, quindi dopo l'allontanamento, non prima, avevano raccontato agli inquirenti, alle psicologhe e ai servizi sociali, loro erano stati allontanati per sospetti abusi, perché erano alcuni di questi bambini erano già seguiti dai servizi sociali, quindi avevano fatto degli incontri e avevano rivelato dopo alcuni mesi di essere stati abusati dai propri genitori. Inizialmente avevano raccontato abusi domestici e poi, diciamo, progressivamente questi racconti peggioravano e diventavano... papà e la mamma e gli zii mi portavano nei cimiteri, c'erano dei rituali satanici, c'erano dei morti ammazzati, c'erano tutta una serie di racconti dell'orrore, cose che però poi dopo non erano mai state dimostrate, non erano mai stati dimostrati né questi abusi genitoriali che in paesini minuscoli come quelli si sarebbero per forza dovuti vedere, non c'erano testimoni, non c'erano prove di nessun tipo e non si era neanche sicuri di quello che era successo per quanto riguarda proprio gli abusi sessuali, perché diversi... c'era stato uno scontro tra periti durante il corso dei processi, perché non si era sicuri del fatto che questi bambini avessero subito o meno abusi a livello fisico. Loro avevano raccontato... è un tema molto difficile questo perché dimostrare... e poi ovviamente ogni volta che si parla di stupri in questo periodo è diventato ultimamente tornato alla ribalta dopo che Grillo ha fatto quel video che non so, poi mi dirai tu se secondo te sarà la sua... sarà la pietra tombale sulla sua carriera politica, ma insomma al di là di questo... quando si parla di stupro si parla sempre poi di prove, di dimostrare, di fare delle indagini medico-legali ed è molto difficile dimostrare uno stupro a livello proprio medico, perché o c'è la presenza di sperma, quindi devi comunque vederlo subito, oppure ci sono delle lacerazioni talmente evidenti che nessuno lo può negare, oppure ci sono delle malattie sessualmente trasmissibili. In questo caso i racconti dei bambini che erano racconti veramente brutali, di violenze brutali ripetute di gruppo con oggetti, con sbarre di ferro, con tutti gli oggetti di tortura medievali esistenti, questi racconti poi non combaciavano con quello che poi era stato rilevato e quindi a un certo punto ci si è chiesti ma che cosa è successo qua, cioè che storia è questo? Ed è il motivo anche per cui mi ha attratto tantissimo questa storia e penso il motivo per cui ha attratto poi dopo successivamente così tante persone, perché comunque è una storia strana, tu quante ne hai sentite, quante ne hai raccontate di storie, le storie in genere sono lineari, tutto risponde alla legge causa-effetto, c'è una linearità, parli di una storia di mafia, le regole sono queste, è difficile che parli di un crimine, parli di un femminicidio, parli di una truffa, parli di politica, di tradimenti, rispecchiano sempre gli stessi canoni, gli stessi parametri, qui invece era tutto molto obliquo, un bambino che accusa un genitore di una roba impossibile, indimostrata, assurda, contraddittoria e tu prima ancora che da giornalista ti chiedi da padre, ma sono stabili i nostri rapporti, i rapporti tra noi e i nostri figli, i nostri legami familiari che noi coltiviamo per anni con l'amore, col tempo, con l'esperienza, quanto sono veramente, cioè è davvero così, è davvero possibile prendere un bambino, chiuderlo in una stanza, dirgli il papà e la mamma sono delle brutte persone, fargli credere che forse ci sono delle cose che lui non si ricorda o che ha rimosso, il bambino che effettivamente si trova di fronte uno psicologo o un giudice, quindi due persone che per lui rappresentano un'autorità indiscussa o un poliziotto, a volte basta anche solo un poliziotto, un bambino di otto anni vede un polizio o un commissario di polizia, resta così, basta questo a far nascere dei racconti di questo tipo e a distruggere delle famiglie in questo modo. E quindi mi sono fatto ingoiare da questa storia che ha occupato la mia testa, la mia casa, la mia vita, la mia famiglia, il mio lavoro per diversi anni ormai e che non si è conclusa, perché poi, insomma, diverse persone sono state condannate, altre sono state assolte, diverse prove sono cadute, ma resta un enorme punto interrogativo, cioè che cosa è successo a questi bambini quando sono stati allontanati, dove sono stati portati, con chi hanno parlato, sono tutti colloqui che sono venuti a porte chiuse e perché tutti hanno raccontato delle storie così incredibilmente grottesche, cioè sgozzamenti nei cimiteri, cadaveri di sotterrati, tutte cose che basta guardarci bene e dici, ma fatti un attimo, cioè prova a entrare in 30 persone alle 4 di mattina in un cimitero in un paese di 4.000 persone e non c'è nessun testimone con le case a 150 metri, un paesino dove nessuno si fa i cazzi suoi, dove tutti parlano, dove passano camionisti a tutte le ore del giorno e della notte, perché quella è una zona di passaggio dove c'è un continuo, l'Emilia Romagna, l'Emilia Romagna non è una terra, non è una regione dove non succede niente, è una regione dove c'è movimento, dove c'è commercio, dove ci sono le industrie, le aziende, dove si produce ceramica, sono camion che passano in mezzo ai campi, furgoni a tutte le ore del giorno e della notte e nessuno vede mai gruppi di gente mascherata alle 4 di notte che di sotterra cadaveri in un cimitero e sgozza bambini, però, e questo è il grande mistero di questa storia, uno dei grandi misteri, ma per me il grande mistero, PM, giudici, alcuni anche membri della comunità scientifica, laureati, docenti, credono a questa storia, portano avanti a tanti bambini sulla base di racconti di altri bambini che sono assolutamente fuori della grazia di Dio, una madre, Lorena Covezzi, una cattolica osservante volontaria che va all'URD col marito, gestisce le attività della parrocchia, famiglia super religiosa, non che non ci siano i pedofili all'interno del mondo cattolico, lo sappiamo perfettamente, ma maestra d'asilo, manda i figli a catechismo, accusata di satanismo, le tolgono i quattro figli, non glieli fanno più vedere, tra l'altro l'unico politico lontanissimo da me dal punto di vista ideologico, però chi se ne frega, l'unico politico che si prende a cuore questa questione, è Carlo Giovanardi, su cui sono in disaccordo, su tutto, ma in questo caso gli ha dato una grande mano, ha dato una mano a queste famiglie, quindi io... e questa nonna e queste famiglie si ritrovano poi anni dopo ad essere assolti, ma il tribunale per i minorenni nel frattempo... per me tu non sei un bravo genitore, nel frattempo i tuoi figli hanno cominciato a odiarti perché sei sparito, perché non sanno più niente, hanno saputo solo quello che hanno raccontato gli altri e quindi oggi ci ritroviamo con delle famiglie disgregate e con dei ragazzi cresciuti convinti del fatto che a 8 anni, 9 anni, 10 anni hanno assistito a dei massacri nei cimiteri dell'Emilia Romagna. Ora, mi raccontano questa storia e dico, mi sembra strano, è tutto strano, cioè ci deve essere... non ha senso. Poi un giorno vado a trovare un avvocato di questi che avevano seguito questi numerosi processi che c'erano stati e questo mi fa un avvocato, Pierfrancesco Rossi, un avvocato di Modena, fa... te devi guardare il caso McMartin! E mi indica in libreria un libro sul caso McMartin, che era il primo caso importante diciamo in America, uguale a questo, uguale! Bambini che raccontano dei gatti squartati nei cimiteri e dentro c'erano degli psicologi che gli facevano delle domande e che cosa gli chiedevano e come gliele chiedevano, processo, scoppia in America anche quello che chiamano il satanic panic, il panico satanista, quindi decine di migliaia di casi che spuntano in tutti gli Stati Uniti dove genitori o assistenti sociali o insegnanti urlano al diavolo e ai pedofili, alle sette pedofile e quindi questa cosa entra addirittura in letteratura, in psicologia, in sociologia, in giurisprudenza, cioè questa è una materia che attraversa trasversalmente diverse discipline, ormai ne trovi a bizzeffe di documentazione su questa cosa qui, solo che noi in Italia non ne sapevamo molto e quindi niente, io esco con questa, assieme alla mia collega Alessia Raffanelli, facciamo questo podcast che inaspettatamente ha un grandissimo seguito e a quel punto un giorno, anche perché poi alcuni di questi ragazzi li troviamo e questi qui ci raccontano da grandi, ci raccontano quello che succedeva in quelle stanze con le psicologhe, ci dicevano che i nostri genitori non erano bravi, che erano cattivi, che ci facevano brutte cose, che probabilmente avevamo rimosso e quindi sai dopo un po' un bambino ci crede e quindi si stacca dai genitori. Un giorno mi chiamano i carabinieri a Reggio Emilia perché durante una, intanto nel frattempo avevamo saputo, perché ormai io avevo conoscenze in tutto il mondo di psicologi, ai magistrati, inizia ad arrivarmi la voce che a Bibiano succedono cose strane, questo era un anno prima che scoppiasse il caso Bibiano e quindi sappiamo che poco lontano, perché tutti i bambini della bassa modenese finiscono nella zona di Reggio Emilia e Bibiano là e quindi ci arrivano notizie e iniziano ad arrivare messaggi di genitori di Bibiano che iniziano a dirmi guarda che qua stanno succedendo delle cose strane, stai attento perché sta ricapitando la stessa cosa che hai raccontato tu su questo caso di vent'anni fa e stai attento perché c'è di mezzo la stessa onlus. Io ne parliamo in un convegno pubblico in cui evidentemente c'era qualcuno che ci stava ascoltando e io ricevo una chiamata dai carabinieri che mi chiedono che cosa sai di questa storia di Bibiano e scoprirò in seguito che stavano indagando su queste psicologhe, che avevano ascoltato il podcast in cui noi raccontavamo questa storia e che questa cosa gli aveva dato uno sguardo, non voglio prendermi meriti che non ho, però gli aveva contribuito in un certo senso ad aiutarli a spostare lo sguardo e a immaginarsi che non ci fosse solo un eventuale abuso denunciato dagli assistenti sociali, ma che ci potesse essere, proprio girandosi di 180 gradi, un abuso commesso dagli assistenti sociali o dalle psicologhe coinvolte con i servizi sociali di Bibiano nei confronti dei bambini, un abuso psicologico in cui queste professioniste probabilmente inducevano i bambini a denunciare i genitori, a parlare di abusi sessuali e quindi avevano piazzato le loro cimici sotto le scrivanie di queste psicologhe con le intercettazioni che poi tutti abbiamo sentito. E questa è un po' la genesi. Io sono stato in religioso silenzio, intanto perché quando hai a che fare con un protagonista è inutile che il protagonista cerchi di diventare tu, lasci parlare chi ha lavorato molto a livello di ricerca, di documentazione sul caso dei diavoli della bassa modenese che risalgono alla seconda metà i fatti degli anni 90, i quali ripeto però poi a un certo punto vengono collegati, e avete sentito come, dagli stessi carabinieri che dicono a Pablo Trincia ma scusa aiutaci a farci capire, abbiamo sentito il podcast e lì si intuisce che forse allontanandosi un attimo dallo stare concentrato solo su Bibiano, è come il quadro, il quadro lo vedi meglio se un pochettino ti allontani, vedi la rappresentazione nella sua complessità. Non vi aggiungo altro perché ovviamente la vicenda di Bibiano è tutt'altro che chiusa, mi interessa dire, intanto la mezz'ora è volata, mi interessa dirvi che se siete interessati come persone curiose o persone che vogliono essere aggiornate o se siete genitori, ecco, questo riguarda me che è un bambino che compie fra un mese cinque anni e riguarda anche Pablo perché nel libro e poi quando ci siamo sentiti l'anno scorso, lui mi diceva che a un certo punto tutta questa vicenda aveva avuto un peso psicologico su di lui, sulla sua famiglia perché a un certo punto solo farsi la doccia e girare con l'accappatoio in casa davanti ai propri figli gli poneva un problema perché diceva, pensa se poi i miei figli, dimmi se ricordo male, però pensa se poi un giorno qualcuno chiede ai miei figli, cosa fa papà? Eh papà gira nudo per casa e... No ma Antonello, Angela Lucanto, che è un caso, l'abbiamo conosciuto tutti attraverso la fiction che è andata in onda su Canale 5, Angela Lucanto è una bambina che aveva fatto un disegno interpretato come aveva fatto un fantasma, avevano detto che era un pisello portata via sulla base dei racconti di una cugina che poi dopo si era capito che aveva avuto degli altri problemi, poverina tolta la famiglia per dieci anni ma non è che ci sono solo Bibiano, io perché mi sono spaventato? Perché queste storie qua sai quante me ne sono arrivate dopo? Verificate, eh? Non... sai, gente che ti contatta ti dice oh ma ho tolto i figli, poi vai a guardare, sì, diciamo che ci sono dei casi in cui questo purtroppo deve avvenire, perché ci sono delle situazioni talmente di degrado che, oh, cioè io non sono a sfavore di questa cosa, eh? Io non sono uno che dice, no, i figli devono restare con le fancazzata ci sono dei casi estremi dove tu i bambini li devi togliere i pedofili ci sono, tutti l'abbiamo sempre detto però qua ci sono delle famiglie che si sono ritrovate poi non hai idea dei divorzi che finiscono così perché robe di cui non sentirai mai parlare perché restano chiuse tra le quattro mura ma divorzi che finiscono così con un coniuge che denuncia l'altro false accuse psicologi che tifano una volta per la madre e una volta per il padre e quindi, come dire, contribuiscono sì, sì, l'ottima Rosaria Capacchione ha scoperto un'altra altri casi simili, terrificanti non so se li hai visti i video a Salerno dove addirittura facevano le domande il papà abusato una mina di due anni e mezzo che faceva e prendevano quelli per sì oppure a una ragazzina gravemente disabile con un gravissimo handicap e un gravissimo ritardo mentale che neanche sapeva esprimersi neanche sapeva dire sì o no ma solo fare versi facevano le stesse domande e casi di questo tipo ce ne sono purtroppo tantissimi quindi io mi sono spaventato perché ti saresti spaventato anche tu vedi tuo figlio che dice poi i bambini a 3-4 anni iniziano a dirlo il culetto, il pisello, la patatina scoprono, come dire, quel mondo con la gioia e con l'ilarità e con la curiosità che hanno i bambini e tu sei lì che dici cazzarola ma veramente questo può succedere e ammazzami, sparami quando vado troppo lungo no, siamo già fuori è colpa tua che me l'hai chiesto io siamo già fuori però facciamo una cosa no, facciamo una cosa non l'ho mai fatto non l'ho mai fatto quindi mi prendo la responsabilità rispetto alle fonti siccome vorrei approfondire ulteriormente la mezz'ora è volata e devo correttamente chiudere perché ci sono colleghi e ospiti che stanno aspettando Pablo, la settimana prossima ce l'hai un'altra mezz'oretta che facciamo una seconda puntata su questo tema che credo che sia non solo rilevante per noi che siamo genitori ma sia rilevante diciamo così su un piano generale per capire va bene allora intanto grazie a questa prima parte con Pablo Trincia a proposito di veleno i diavoli della bassa modenese Bibiano le possibili rappresentazioni che verranno fatte sede di produzioni televisive o altro ne parliamo la prossima volta la settimana prossima grazie a Pablo Trincia e parleremo delle differenze tra il cieco e il persiano con Antonello Piroso va bene ah pensavo cieco sì nel senso che non sono in grado di vedere al di là del mio naso ma è vero grazie a tutti continuate a guardare le fonti ci rivediamo domani alle 10 con Walter City con Pablo Trincia la settimana prossima buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti